Sta simpatico mangia, dice che è preoccupato per la mia salute fisica e mentale e anche per la mia alimentazione, perché magari qualcuno pensa che ho pochi zuccheri nel sangue in questo periodo e mi invitava a panettoni, pandoro e queste cose qua, quindi me lo son portato così almeno, sapete che sto bene sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale, sono sereno e dal punto di vista dell'alimentazione mi tratto bene. Hai capito? Beh, filiforme non è in effetti, non è neanche un ciccione, intendiamo.